Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Lulu Selassie è stata massacrata da alcuni utenti sul web a causa di solei sorgi. Ecco cos'è accaduto nelle ultime ore.Per Lulu Selassie questo non è un ottimo periodo Sappiamo che la rottura con Manuel Bortuzzo, arrivata con un fulmine a ciel sereno, è stato per lei un durissimo colpo e che non ha mai nascosto il suo dolore per ciò che è successo. Adesso, però, per lei è ancora tempo di polemiche, ma questa volta né per causa sua, né del suo ex fidanzato Le critiche piovono a causa di solei sorge, sua ex coinquilina all'interno del GFVP6 Lulu Selassie è massacrata per colpa di solei sorge.Lulu Selassie attualmente non sta vivendo un ottimo periodo Sappiamo che quasi un mese fa è naufragata la sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo, con cui ha vissuto sette mesi, praticamente quasi tutti di convivenza I due, infatti, hanno trascorso quasi cinque mesi insieme 24 ore su 24 all'interno del GFVP6, per poi continuare a vivere il loro amore lontano dalle telecamere Punto verso la fine di gennaio, infatti, a circa un mese e mezzo dalla finale, il nuotatore decise di abbandonare il reality per problemi personali, mentre la princess volle restare Arrivata in finale, poi, non è riuscita a conquistare il primo posto, ha giudicato invece dalla sorella maggiore Jessica, ma le cose belle per lei sono comunque arrivate Appena uscita dalla casa più spiata d'Italia, infatti, la principessa è andata subito a convivere con Manuel e durante il primo mese di vita reale dei due La loro storia sembrava andare a gonfie vele, tanto che i due pensavano a matrimonio e figli Punto poi però qualcosa è andato storto e i due improvvisamente verso la fine di aprile si sono detti addio Sulla loro rottura è stato detto di tutto e le loro versioni non combaciano affatto, lei sostiene che il suo ormai ex l'abbia lasciata tramite un comunicato, lui invece ha dichiarato di averle parlato a voce prima Insomma non sappiamo se scopriremo mai la verità, ma quello che è certo è che Lulu Selassie di recente è stata massacrata dal web e la colpa non è né sua né di Bortuzzo, ma di Soleil Sorge Le critiche alla princess.Secondo molti Soleil Sorge si sarebbe schierata dalla parte di Lulu Selassie dopo la sua rottura con Manuel Bortuzzo Ai microfoni di pomeriggio 5, l'ex corteggiatrice di uomini e donne si era limitata a dichiarare, a me dispiace tanto sentire certe dichiarazioni di Manuel e Lulu Forse l'unico errore che hanno fatto è stato sannare questo amore senza viversi poi fuori Ma non era stato tanto questo a far parlare, quanto il like messo da lei su Twitter ad una sua fan, che aveva scritto cara Lulu, ricordati che non sei mai sola Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza, e ricordati che nella vita tu meriti molto di meglio Adesso, però, su Lulu Selassie stanno piovendo critiche a causa proprio di Soleil Sappiamo che quest'ultima di recente ha lanciato una sua linea di costumi da bagno, e non solo, State of Soleil Fin qui tutto bene, se non fosse che l'unica principessa che ha deciso di seguire la pagina Instagram del suo brand è stata proprio Lulu A molti fan non è piaciuta questa sua decisione, alla luce soprattutto dei tanti litigi che la sorge aveva avuto con Jessica durante la loro permanenza nel GF VIP 6 Un utente, infatti, ha scritto chiaramente, scandaloso che Lulu continui a seguire stascema dopo tutto lo schifo che ha detto alla sorella Per adesso, però, nessuna delle protagonisti ha replicato. Staremo a vedere cosa accadrà Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao